Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 27 ottobre, ci avviciniamo a novembre, sono le 11.36 e finalmente ho tempo per fare un aggiornamento. Sono giornate davvero febbrili queste e quindi non mi chiedete troppe centrature su altre cose che in questo momento non sto ancora seguendo. Non ho proprio materialmente il tempo di allungare le ore. Partire da un concetto semplice, il fatto che, mettetevi comodi, nella mia vita sono sempre stato come uno specchio per gli altri. L'animo da analista quantitativo obiettivo l'ho sempre avuto, sia nei miei confronti, per cui so dirvi esattamente quali sono i miei difetti, sia però nei confronti degli altri e grazie al fatto di essere uno specchio per gli altri posso capire molto rapidamente e far capire agli altri se sono persone umili o persone arroganti. Se una persona arrogante si specchia, mi darà dell'arrogante, ma non saprà che io sono specchio. Se una persona invece è umile, si avvicinerà, non mi darà dell'arrogante e magari faremo tante cose insieme, soprattutto guadagneremo e perderemo poco. Dopo il terapiatista nel gruppo premium abbiamo un'altra novità, di cui però non ho voglia di parlarvi perché conta abbastanza poco. Vi racconto soltanto che il terapiatista, quello che diceva che non faccio i miei trade, quando poi gli ho messo di fronte l'estratto conto delle operazioni di uno dei titoli, di uno dei depositi che ho, l'estratto titoli, è scomparso. Non mi ha fatto vedere al suo perché diceva che facendo l'opposto di quello che dicevo io guadagnava. E io però ho tirato fuori l'estratto conto titoli, con tutte le operazioni. Lui non lo vediamo più, ok, perché contano sempre i fatti. E adesso la smetto di dare importanza a stupidaggini, ricordandomi soltanto che tanta gente è solo intenzionata a fare polemica. Perché? Perché non riesce a fare altro. Non riesce a fare altro e soprattutto a dimostrare altro. E quindi è più facile criticare che pensare e studiare. Torniamo a noi. Ipotesi raccordo. Sta andando bene? Sembra corretta? Torniamoci di questa roba qua che era l'ipotesi base. Allora, come tutti sanno, chiunque abbia studiato anche la ciclica base di Hurst, del Migliorino, eccetera, perché ho fatto un errore a dire una cosa lo scorso video. Comunque, chiunque sappia le regole di ciclica base sa che dopo qualsiasi ciclo può partire o un ciclo o un raccordo. Chiunque. A chiunque abbia studiato e sia competente per parlare. Quindi dopo questo mensile poteva esserci una finta a ribasso con rialzo di un determinato tempo, perché se veniva tra un mensile e un mensile, è un raccordo di tre gradi inferiori, quindi di grado T-1 inverso, ovvero poteva durare tra i tre e i cinque giorni. Arrivando dopo un trimestrale, e dovete sempre mettere in conto i raccordi, se siete persone competenti, se siete dei professionisti che conoscono la ciclica base, perché queste regole qua sono della ciclica base, non sono proprio delle volute, le volute le acquisite insieme a GAN, candele giapponesi e tutto il resto. Poi ci sono regole che scrivo io, i cicli di motore e tante altre cose, ma le regole base bisogna conoscerle, ok? Dopo qualsiasi ciclo, anche un T settimanale, anche non inverso, ci può sempre essere un raccordo, si può arrivare a dodici barre. Tra l'altro lo vedete nei grafici di Ethereum, se non mi ricordo male, ok? Ma a parte questo. Sta funzionando per ora la cosa? Sì, uno, due, tre, per ora tre barre, tre giorni, ok? Più uno rossa, che adesso non sappiamo che cosa sia, perché è un inside. Questa candela rossa è dentro, inside, il massimo fatto dalla candela precedente, questa verde, a 21.022 e il confine è dato dai 20.077 dollari. Quindi è dentro, non ci sta dicendo niente. Però ci sono tantissime altre cose che ci vengono dette. Primo, abbiamo avuto una chiusura all'interno della Kumo. Ormai anche la regoletta della Kumo, spero ve la ricordiate, giusto? Ok, se non ve la ricordate, è in uno dei video precedenti come le regole, i raccordi e tutto il resto. Poi, altra cosa importante. A quanto siamo arrivati? E qui siamo arrivati oltre, giustamente, i 43 giorni massimi di mensile inverso, che ci dicono che oltre questi 41 non si poteva andare e stiamo aggiungendo 4 barre, che è un T-1 inverso, ovvero un ciclo a 4 giorni in media, che parte da massimi, va su minimi e torna su massimi, che è quello che sta tra un mensile inverso e un altro mensile inverso. Ma noi sappiamo se siamo tra un mensile inverso e un altro mensile inverso e quindi avremo un ciclo a tre tempi di inverso, oppure se allungheremo ancora la strada verso l'alto, magari è questo il livello, a 21.707 dollari, avendo invece un raccordo proprio di un T più tre inverso, di un trimestrale inverso. Un trimestrale inverso che cos'è? Un T più tre inverso. Guardate, avete qua la leggenda. 48, 64, 84. Noi siamo a 74 giorni. Ci stanno ancora dentro minimo due giorni per arrivare quassù a 21.707, 730, quanto è dollari? Perché magari il raccordo sarà tra trimestrale inverso e trimestrale inverso? La risposta è ovviamente sì. Ok? Preferisco chiarire anche un'altra cosa importante. Questo, anch'io mi sono accorto che può essere un mensile inverso già completamente vincolato a salire, perché abbiamo il tempo, ma abbiamo la violazione di uno swing che lo confermerebbe al 100%, e scusate perché ho messo la freccina sulla parte sbagliata, e non abbiamo nessuna violazione che ci dica che questo sia un mensile inverso. Quindi ci sta come ipotesi anche, ok? Anche. La cosa che ce ne accorgeremo è se continueremo a salire per... Aspettate perché mi viene da ridere a pensarci. Se continueremo a salire per oltre 14... Oltre 10 giorni da oggi, e quindi arriveremo almeno a continuare ad aggiornare i massimi fino al 6-11, sì, la risposta è sì, assolutamente. Se invece non andremo così tanto avanti, anche perché un raccordo inverso di grado, settimanale inverso, dura al massimo 11 giorni, e quindi se arriverebbe solo al 3 di novembre, no. Perché non abbiamo nessuna conferma che da qui sia partito. Sì, sì, è vero, ok. Ribadisco, le vedo certe cose. Qui a 31, e qui che sarebbe stato veramente comodo, invece no. Non è l'ipotesi principale per me. Continuo a preferire il discorso del raccordo, perché il raccordo non ha bisogno di swing, di cose strane, eccetera, eccetera. Fa quello che cavolo vuole, però lo fa nei tempi dati dal ciclo che precede e da quello che segue. Quindi può essere o un ciclo a 4 giorni di media, o un ciclo settimanale a 8 giorni di media, che poi va fino a 11. Ok? Questa è la visione. In media preferirei persino un team verso, quindi arrivare a minimo 6 giorni, al massimo 11. E basta contare poi a un certo punto. Vi faccio però fare anche un'altra riflessione che forse non è proprio scattata in mente a tutti, ma ribadisco, l'esperienza è lavorare tutti i santi giorni sui grafici, come faccio, perché vi ricordo anche un'altra cosa. Non faccio più corsi, almeno ho sospeso i corsi, che già non avevo più tanta voglia di fare, perché troppa gente copia, per cui non ho più voglia di fare neanche quello, sinceramente. Mi faccio i fatti miei e va benissimo così. Per cui, il resto è fuffa. Ok? A parte quello, come dicevamo, noi abbiamo una cosa che è importante da tenere d'occhio. Ok? Abbiamo che noi continuiamo a essere su un trimestrale ribassista, a meno che da qua non ci si sia staccati e si è andati in violazione non soltanto dello swing di un mensile, ma anche dello swing di un trimestrale. E a quel punto avremmo avuto, cosa? Un tre tempi, primo mensile, secondo mensile, terzo mensile e avremmo chiuso qui, a 116 giorni, che cosa? E avete la leggenda, il primo semestrale. E da qui staranno partendo. Ma ribadisco, sapete che swing è stato violato qui? Perché io, a chi lo chiederà nel premium, lo dirò. E a questa è la domanda principe da ricordarsi di andare a fare. Perché noi abbiamo un unico e unico intento, un solo e unico intento, guadagnare, non cercare la polemica, non perdere tempo in quisquiglie, altre cose. e quando si incontra qualcuno che si reputa in gamba, un professionista nel campo, si ascolta tanto, si parla poco e si fanno solo domande tecniche. O almeno così funziona nella vita reale, come in un'università, come sul lavoro, come ovunque le cose si facciano bene. Perché la prima cosa che è importante ricordarsi, nei confronti di qualcuno che sta dando agli altri, gratuitamente, swing per dire del tipico 5 annuale, su Nasdaq ieri, è ricordarsi che ci va rispetto. Soprattutto quando poi il rispetto ce lo si guadagna sul campo, con analisi corrette e trade corretti. Lo ricordo perché purtroppo leggo delle cose che ribadisco a me a me gli hater fanno morire da riderci. E' proprio quello stacco che mi permette in giornata di farmi una grande risata. E mi divertono anche rispondere. A volte cancello perché non ho neanche voglia. Ma è un bello stacco. A parte questo, ok? Che cosa possiamo aspettarci? Torniamo sul grafico a 45 minuti. Quello che in molti spacciano per loro e non sanno neanche darvi una spiegazione del perché. E invece chi mi segue sa che è un parto mio, punto e fine del discorso. Anche perché altri non facevano proprio evoluta o ciclica prima di me. O almeno non ho mai visto un video che possa comprovare una roba del genere. C'è gente che ha vato a sparire video con le sue previsioni. E quindi ecco fate attenzione. Su questo canale ci sono oltre 1500 video. non è scomparso nessuno. Ce ne sono forse altri nascosti e riservati non a tutti. Ma scomparire non scomparia nei video come altrove. Per cui tenete anche conto di questo dell'onestà. Quando purtroppo non riesco a fare un trader lo dico non mi prendo meriti che non ho. Ritornando qui allora l'inverso è semplice da leggere. Raccordo primo ciclo giornaliero inverso secondo ciclo giornaliero inverso mi si è bloccata di nuovo la telecamera quindi dovrò accelerare devo capire come mai il tecnico non me l'ha messo a posto. Allora possiamo ancora salire? Sì possiamo ancora salire perché se ipotizziamo un raccordo tra di più 3 inverso ovvero ciclo trimestrale inverso e altro ciclo trimestrale inverso si può tornare qui sopra attenzione che però entrare senza uno swing violato porta a perdite come a chi l'ho fatto senza aspettare uno swing violato di minimo. Non c'è stata la violazione e qui siamo andati su. Anticipare non paga in certi momenti. Altra cosa interessante anche se andassimo in questo momento a rimbalzare e si può provare un eventuale long con stop strettissimo sotto questo minimo sotto il minimo attuale a 20.538 ma se conoscete le volute e se sapete fare trading se no non è un trade per voi fatevelo in paper ok? In paper trading si imparano tante cose siate umili partite da zero ascoltate più di quello che dite ok? E' un atto d'amore ascoltare. In ogni caso ribadisco si può valutare per il breve e per il fatto che si potrebbe andare anche qui sopra non è detto non ci sono swing questo è un trade eventualmente rischioso riservato solo a chi sa come farlo. Viceversa aspetteremo l'eventuale minimo da cui potrà partire il settimo t-3 perché l'indice è difficile da leggere in questo momento ci sono più letture possibili tutte corrette ma più letture possibili questa mi sembra per ora la più corretta e poi ragioniamo comunque se vogliamo tenere buona l'ipotesi principale ovvero quella di un raccordo di grado settimanale inverso tra trimestrali ragioniamo di nuovo di long se invece vogliamo essere più prudenti aspettiamo del tempo per vedere se sarà soltanto un t-1 tra un ciclo a tre tempi e un ciclo a tre tempi come potrebbe essere anche questo d'accordo? vi ringrazio per il vostro tempo sono bello come una statua no? neanche così ok? perfetto niente da fare qui si parla di trading non si parla di altro non ci interessano le polemiche noi vogliamo guadagnare e non perdere e a volte ci fermiamo per tutelare chi non è capace a fare trading aspettiamo oppure come nel caso della BCE aspetteremo fuori dal mercato che arrivi la notizia che per un breve periodo può impattare sui corsi non cambia il resto del movimento che ci si aspetta e poi opereremo in questo modo eviteremo rischi non necessari che possono cancellare depositi titoli oppure exchange oppure posizioni in crypto vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia lo sarà sicuramente perché ormai riesco a deviare probabilmente anche le pallottole come Fania e Matrix per cui mi piacerebbe soltanto tanto 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 riuscire a fare un'altra cosa a finire di vedere Elvis vi ringrazio per il vostro tempo arrivederci